Premio per flag, scommesse a quattro pizza, Super Tris per il concorso di Ippi Cananale 318, Patrizia Quarte, Quintè, 2060 metri, Texas Rock, Andrea De Muro, Totto Bava, Rosario Tommaso De Rosa, Tanagragette, Fabio Martirelli, Tor Quilpi, Andrea Cuzzinati, Tepe dei Greppi, Lippio Pasini, seconda pila allo start, Tosca Green, Pelvis, Vestichelli, Giappi, Cino Salagone, Gioana Bei, Marino Lovera, per il 2080, Trilacria, Bont, Cosimo Cangerosi, Tuic, Zac, Michela Racca, Tino Barilla, Tommaso Di Lorenzo, Triver Caccio, Edoardo Baldi, per il 2100, Trofarello, Santo Mollo, Tiago Trini, il favorito, Roberto Mecchione, senza berri posteriori, Tor Quilpi, senza berri anteriori, Trilacria, Bont, ultima Super Tris del mese, tutte le Super Tris di questo mese, disputate a Torino, febbraio con la Super Tris, inizierà in quegli Napoli, Torino, passa il testimone a Napoli, almeno per quello che riguarda il primo appuntamento di febbraio. Cavalli, io dalla pista da corta passano al passato interno. Mettetevi a contatto uno con l'altro. Venite al primo nastro, adagio al secondo. Restate a contatto uno con l'altro. Bene, su dritti, piano, piano col cinque, piano col cinque. Su dritti! Ancora! Valido il primo segnale, Tanagra Jet, al comando, l'errore di Texas Rock, l'errore di Tappis, l'errore di Trenacria Font, numero 9, Trenacria Font, squalificato, numero 1, Texas Rock, squalificato, numero 6, Tosca Griff, squalificato. Entrando di fronte, numero 4, Tocqueville, finis, squalificato. Al suo esterno si presenta Tijuanabey, in terza posizione dal secondo nastro, filtrato velocemente Tino Balilla. Tijuanabey passa avanti a Tanagra Jet, in terza rimane il numero 11, Tino Balilla, i primi 400 metri passati in 32,5, dalla media di 23, scarso. Così sulla seconda piegata Tijuanabey al comando, in seconda posizione rimane sempre Tanagra Jet, in terza sempre Tino Balilla, poi Trippet Cash con alato il favorito, Thiago Tri, si esce dalla piegata, all'avanguardia sempre Tijuanabey, si volta Marino Lovela a controllare l'espressione delle sue spalle, 36. Il secondo quarto passaggio davanti alle tribune con Tino Balilla che esce ad anticipare Tijuanabey, numero 2, Tijuanabey, uno 23,5, ad un giro dal termine, l'errore anche di Tijuanabey, all'avanguardia sempre di Tijuanabey, al suo esterno Tino Balilla in terza posizione, passa Tijuanabey, uno 38,9 per arrivare agli 800 finali, 33.000 terzo parziale, passa in seconda posizione Thiago Tri, dal gruppo migliora anche Trofarello che è in scia dal favorito Mollo che fa ovviamente corsa su Roberto Vecchione, ora Roberto Vecchione con il favorito Thiago Tri e alato della lidere Tijuanabey, Tijuanabey in vantaggio, sta passando, Thiago Tri, si trascina sempre Trofarello, poi nella scena di Trofarello c'è anche Trivet Cash, avanti verso il completamento della piegata, c'è Tijuanabey, sbaglia Tino Balilla, ingresso in addirittura con Thiago Tri, numero 11, Tino Balilla squalificato, Thiago Tri, precede Trofarello in terza posizione, Trivet Cash, Thiago Tri avanti a Trofarello che prova ad avvicinarsi, Thiago Tri continua al comando e allora è un gustoso primo per Roberto Vecchione che a questo punto può anche fare la scarpetta e non lasciare nulla agli altri, per quello che riguarda la seconda posizione, Trofarello un po' troppo dimenticato in sede di pronostico, avrà pur sempre una Griff Smorgon e una signora guida locale, in terza il 12 di Trivet Cash, come dire, beati gli ultimi, in quarta il 10 di Twiccic, in quinta probabilmente il 3 di Tanagra Jet, 38 il penultimo quarto, 30 netti il quarto conclusivo, un complessivo 2,39,7, la media al chilometro di 1,17,5, rivediamo le battute conclusive al rallenti per stabilire in maniera chiara ed evidente il passaggio al traguardo delle prime 5 posizioni, ovvero il 14 di Thiago Tri, il 13 di Trofarello, il 12 di Trivet Cash e il 10 di Twig Zack, mentre per la quinta e ultima posizione potrebbe esserci fotografia tra il 3 di Tanagra Jet e l'8 di Tijuana Bay. Questo è quanto per il premio Batrag, scommessa quota fissa, Supertrice della giornata. Torino torna fra 7 giorni, ancora gli appuntamenti del venerdì, ma venerdì prossimo la Supertrice è in programma al trottere di Agnano e quindi seguiremo con simpatia dal chiusura di inizio cronaca, sino a manca il tempo per la parte conclusiva. Un saluto ovviamente anche al zio Salvio Cervone, intanto passa il fotosprint e la parte rallenti della fase conclusiva della corsa, 14-13-12-10 per il quartier, 14-13-12-10-8 potrebbe essere, o 3, c'è fotografia tra il 3 e l'8 per l'acquisizione del quinto e ultimo compenso. Buon prosegimento riserato a tutti.